Buongiorno a tutti amici, finalmente consegno e proviamo la Kiosho MP10 di Federico Che dico Buongiorno E' troppo bella, è troppo bella, è venuta proprio bella Buongiorno a tutti 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 Facciolo l'uomo più veloce in pista al momento Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Che si stanno comportando bene Buongiorno a tutti 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 Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di seguirmi su Facebook e Instagram. Ci vediamo molto presto con un nuovo video. Un saluto a tutti, ciao!